Grazie a tutti. Quindi ditemi se posso andare avanti, se avete dei dubbi, un bisogno di chiarimento rispetto a quello che ci stiamo raccontando. Grazie a tutti. E scelte per modalità di gestioni differenti che, come vi dicevo prima, variano, cambiano da situazione in situazione. E per tipologia dei servizi che ci vengono richiesti, quindi a parte la scheda che riepiloga brevemente il sito, la sede museale o comunque il sito culturale, la scheda che vedete nella slide, per i servizi richiesti sono tutte molto diverse. Parto da una delle più importanti, che è la Galleria Nazionale dell'Umbria, che è a Perugia, a sede all'interno del Palazzo di Priori di Perugia, in uno dei palazzi storici più belli in assoluto della nostra città. Considerate che il percorso espositivo della Galleria è stato completamente rinnovato nel 2006, è disposto su due livelli e occupa uno spazio di 4.000 metri quadri. È una delle collezioni in assoluto più importanti dell'Umbria. Allora, la gestione della Galleria Nazionale come funziona? Per noi è una gestione mista, nel senso che tutti i servizi di base, ovvero la sorveglianza, la guardiania, la custodia, tutta la parte relativa all'allestimento, alla cura dell'allestimento, il percorso espositivo, e la stessa figura del direttore fanno capo alla sovrintendenza. La sovrintendenza ha affidato, attraverso gara pubblica, la gestione dei servizi aggiuntivi. Quindi, i servizi di base sono già garantiti e gestiti e supportati internamente dal personale della sovrintendenza. Tutti i servizi accessori, aggiuntivi, sono stati affidati ad un gestore privato. Quindi è proprio un classico esempio di gestione mista. Per quanto riguarda la Galleria Nazionale, il Sistema Museo si occupa di gestire l'area della biglietteria, l'allestimento del bookshop, tra l'altro in questo caso della Galleria, con un investimento di sistema museo, nel senso che è stato finanziato interamente dalla cooperativa, l'allestimento, le librerie, il rapporto con i fornitori, quindi tutta la gestione del bookshop. E in più, per la Galleria, forniamo i servizi di educazione al patrimonio, quindi i servizi didattici. È una delle, ovviamente, gestioni principali, non solo perché ha sede nella città dove abbiamo la nostra sede, ma anche per i rapporti con la sovrintendenza, non sempre facili in generale, in questo caso estremamente felici, invece devo dire c'è una buona sintonia tra personale della sovrintendenza e personale del Sistema Museo, sebbene i servizi siano differenziati, cioè ci siano due ambiti estremamente netti, quindi gli operatori della sovrintendenza non interferiscono e non svolgono i nostri servizi e viceversa il nostro personale, però c'è una buona sintonia, c'è una sinergia, insomma, rispetto ai due ambiti. L'altra gestione di cui vi parlo è la gestione che ho già citato, ed è un museo locale. Considerate che i 107 musei della rete museale dell'Umbria, adesso solo per parlare dell'Umbria, sono, a parte la Galleria Nazionale dell'Umbria, piccoli musei locali. L'Umbria, a parte la città-provincia, Perugia e Terni, l'altra provincia, è composta da piccole città e da piccoli comuni, quindi gli stessi musei sono tutti, come dire, sono una miriade di postazioni, di luoghi che conservano delle collezioni legate al territorio, quindi collezioni locali. Vi cito Montefalco perché è uno dei tanti esempi di musei locali che gestiamo in Umbria. Il primo museo che siamo andati a gestire nel 90, e a parte una breve pausa di un paio d'anni in cui non abbiamo partecipato ad una gara di appalto, in maniera continuativa, fino ad oggi ancora, è di nostra gestione. È un museo locale, Montefalco è un comune che si trova vicino Foligno, tra Foligno e Spoleto, di 4.000 abitanti e più o meno tutti i comuni dell'Umbria sono comuni di questo tenore, di questa grandezza. Eppure questo museo è un fiore all'occhiello della nostra regione perché conserva al suo interno, è un complesso in realtà, è un complesso museale che è composto da una chiesa-museo, la chiesa di San Francesco, che ospita il ciclo degli affreschi di Benozzo Gozzoli, che appunto sono rappresentati in questa figura e affrescati nell'abside. In più ha al suo interno, proprio adiacente alla chiesa-museo, una pinacoteca. Recentemente, tre anni fa, è stato completamente ristrutturato il complesso della pinacoteca, al suo interno creata anche una caffetteria e un'enoteca. Questo museo, ve ne parlerò approfonditamente più avanti, fa parte di una rete di musei, cioè una rete più piccola rispetto alla rete museale regionale, di 10 comuni che si sono uniti tra di loro per una serie di azioni congiunte di promozione e gestione del patrimonio. Ecco, questo è uno dei tanti esempi, ma come questo ve ne potrei fare almeno altri 70 di realtà museali locali. Qui abbiamo tutti i servizi di gestione, dalla gestione dei servizi di base del museo, quindi la gestione delle sedi, l'apertura, il personale, l'accoglienza, le informazioni, l'allestimento del bookshop, in questo caso la gestione della caffetteria e tutti i servizi aggiuntivi di educazione al patrimonio, organizzazioni di visite guidate, promozione, azioni di comunicazione in base agli eventi che vengono creati. Oltre ai musei gestiamo anche delle aree naturalistiche, che hanno ovviamente una modalità di gestione molto differente, se non altro perché il patrimonio è diverso, innanzitutto è naturalistico, è un ambiente all'aria aperta. Vi cito le cascate delle marmore di Terni, che meritano una visita, ma credo che una volta nella vita tutti quanti, o in gita scolastica o da adulti, insomma, meritano una visita. Anche in questo caso noi siamo in associazione temporanea di impresa con una serie di, cioè molti soggetti, che si occupano di vari ambiti. Noi ci occupiamo dell'area dell'accoglienza, delle informazioni, quindi proprio la gestione della biglietteria, le informazioni, l'orientamento alla visita, il nostro personale è nell'area accoglienza, e gestiamo i servizi didattici, che nel caso di un ambiente come quello delle cascate ovviamente richiedono dei requisiti diversi, quindi siamo costantemente in contatto anche con la comunità montana o con soggetti che sono, da questo punto di vista, con delle professioni insomma molto più legate all'ambiente e al territorio. Io vi vorrei far vedere un video rispetto alla cascata, ho preparato alcuni video proprio anche per farvi vedere, oltre che per raccontarvi sia come è l'ambiente, sia la tipologia dei servizi che facciamo anche in queste sedi. Vuole dire qualcosa? Ah, ok. Passai di fuori dal registro. Grazie a tutti. 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 un po' anche le varie tipologie di visita che vanno dal semplice visite guidate lungo i sentieri, ci sono 5-6 sentieri divisi anche per grado di difficoltà ovviamente nel percorrerli lungo il percorso della cascata, rivolte sia ad un pubblico adulto che ad un pubblico di ragazzi, visite in notturna, visite a dorso d'asino, in collaborazione con il gruppo speleologico delle visite in grotta, la possibilità di fare rafting ovviamente essendo una cascata, quindi veramente una gamma e vi invito a visitare il sito che è stato appositamente costruito per la cascata dove c'è tutta una serie di proposte. Per il pubblico dei ragazzi di cui poi vi parlerò nello specifico nel pomeriggio, la fanta passeggiata con lo gnefro che avete visto che è questo gnomo che vive nella cascata e che ha un successo clamoroso verso i ragazzi, il pubblico dei ragazzi perché è lo gnomo della cascata che racconta come è nata la cascata. Niente di particolare, cioè vengono sfruttate le potenzialità del sito e sempre questo in generale è la modalità di lavoro, non andiamo a cercare niente di sconvolgente rispetto a quello che già offre il sito, che sia un museo, che sia una mostra, che sia un parco archeologico, che sia un ambiente naturalistico. Partiamo dall'ABC, cioè partiamo da quello che c'è già, cerchiamo semplicemente con delle modalità, con delle professionalità, con un sistema anche di promozione e di comunicazione di renderlo qualitativamente ineccepibile, accattivante e di promuoverlo. Vi racconto questa cosa, questa fantapasseggiata, questa tipologia di visita che è un po' la scoperta dell'Uovo di Colombo, chi meglio appunto di un personaggio fantastico, che appunto è un gnomo che vive in cascata, può raccontare ai bambini come è nata la storia della cascata e li conduce poi lungo un sentiero ovviamente molto facile. Tra l'altro rispetto a questa visita io sono particolarmente legata perché inizialmente una decina di soci di Sistema Museo comprole al seguito, abbiamo proprio fatto da cavi e sperimentato con i nostri bambini, io ho un bambino di sei anni e mezzo, ho portato il mio e la prima fantapasseggiata l'abbiamo fatta proprio per i nostri figli, insomma, e già lì è stato il modo di sperimentarla e molto spesso lo facciamo, facciamo internamente, diciamo, delle attività di sperimentazione che sono sia di formative per gli operatori che poi andranno a lavorare, insomma, quindi con i colleghi possono direttamente confrontarsi e poi insomma con ovviamente il pubblico a cui è destinata, in questo caso, insomma, dei bambini. Allora, un'altra, ecco, questa è anche una tipologia di gestione interessante, allora, noi gestiamo da luglio 2012 il memoriale di Giuseppe Garibaldi a Caprera in Sardegna. Allora, il memoriale innanzitutto è in un luogo fantastico, non so se questa foto riesce a rendervi l'emozione e l'idea. E' stato allestito all'interno di un ex forte, l'ex forte Arbuticci, che era appunto nella parte, diciamo, nella propagine, diciamo, di Caprera a Baluardo, insomma, a difesa della zona stessa, è stato inserito nell'ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia e ripercorre la storia di Giuseppe Garibaldi e tutte le sue vicende. Ha un allestimento molto particolare, perché al di là degli oggetti musealizzati, dei documenti, ha un allestimento multimediale. Quindi tutte le sale espositive raccontano attraverso video, filmati, apparecchi touchscreen dove il visitatore può interagire, la storia appunto dell'eroe dei due mondi. Devo dire che ha avuto, come dire, una riuscita eccezionale. La multimedialità ha i suoi pro e i suoi contro. Invece in questo caso devo dire che c'è un giusto equilibrio. Quindi è veramente, come dire, in questo caso valorizza i documenti e i reperti stessi che vengono esposti. E questa è una gestione molto interessante, per noi molto interessante, perché siamo rientrati appunto in questo progetto nei vari progetti, diciamo, dei finanziamenti e dei festeggiamenti dei 150 anni, dell'Unità d'Italia, quindi direttamente in contatto anche con il gruppo di lavoro ministeriale che ha promosso le varie attività. In questo caso, come negli altri casi di gestione fuori sede, fuori regione o comunque lontane, tutto il personale a Caprera che lavora al memoriale è personale locale. In questo caso non siamo i nati o comunque non siamo in collaborazione con altre cooperative o associazioni locali, ma il personale è stato selezionato e reclutato in loco e assunto, assorbito dalla nostra cooperativa. C'è un nostro referente che dall'Umbria costantemente, almeno una volta al mese, si rega in zona per le questioni, diciamo, organizzative, però è stato fatto un lavoro di formazione, un lavoro di start-up anche della gestione e di formazione del personale, tale per cui il gruppo di lavoro è veramente, aveva già dei requisiti, aveva già lavorato in questo ambito, però il gruppo di lavoro si è ben integrato anche su quelle che sono le nostre modalità di lavoro. Devo dire che è un esempio di gestione molto fortunata, insomma, che sta andando molto bene. Siamo in Puglia, come vi dicevo, noi gestiamo a Grottaglie, il museo della ceramica e l'ufficio turistico, e a Otranto il castello a Ragonese. Allora, la gestione di Otranto è molto particolare, innanzitutto per la durata, perché è per cinque anni e come vi dicevo prima non è così scontato ultimamente avere gestioni così lunghe. Nel caso di Otranto siamo in associazione temporanea di impresa con l'associazione Orione, il personale è dell'associazione Orione, in parte però è stato assunto da noi, quindi c'è un doppio ambito. Noi abbiamo provveduto alla formazione di questo personale, all'allestimento del bookshop del castello e nel piano di gestione del castello, tra gli obiettivi richiesti, abbiamo proposto un piano di cinque anni di organizzazione di mostre, di cui vi parlerò proprio quando parleremo del settore delle mostre. Questo, allora, stanno riscuotendo un grande successo, devo dire, stiamo rispettando gli obiettivi promessi, tra virgolette, nel progetto tecnico, quindi stiamo mantenendo gli impegni presi. C'è una collaborazione molto fattiva, molto attiva con il comune di Otranto. Considerate che il comune stesso, in parte, ha già investito e sta tuttora investendo sul castello per quanto riguarda la struttura, la ristrutturazione, quindi è stato fatto proprio un lavoro di rivalutazione e valorizzazione del luogo stesso, che negli ultimi anni invece era quasi semi-abbandonato, insomma. Invece sta diventando un luogo culturale molto vivace, un'esperienza molto positiva per noi. Allora, su Genova, come vi dicevo prima, in Liguria abbiamo soltanto delle gestioni a Genova, soltanto per modo di dire i musei di strada nuova, che sono sostanzialmente le tre dimore storiche del comune di Genova, in una strada, appunto la strada nuova, che è patrimonio dell'UNESCO, e sono i cosiddetti Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Turzi, dove noi invece gestiamo solo i servizi di biglietteria e bookshop, quindi soltanto alcuni servizi aggiuntivi. Ma, grazie a questa nostra gestione, abbiamo nel corso degli anni proposto, progettato e realizzato anche delle attività in più. Alcune di queste, ve ne parlerò tra breve, sono proprio dei progetti di visita urbana, di circuiti, partendo dai palazzi, dai musei di strada nuova, di scoperta delle eccellenze culturali della città, ma anche delle eccellenze enogastronomiche, con un progetto speciale di cui tra poco vi voglio parlare. A Genova abbiamo anche in gestione uno dei progetti più interessanti che stiamo vivendo in questi anni, che è la gestione dell'Emporio Museo di Via del Campo, a cui dedicherò una parentesi speciale perché è veramente particolare. Come vi dicevo prima, noi gestiamo anche teatri, con attività che vanno, con attività sostanzialmente di maschera, quindi con operatori che si occupano solo di questo. In alcuni casi anche forniamo operatori che siano tecnici di palco, quindi insomma è marginale per noi l'attività sui teatri, proprio perché sono anche figure rispetto ai nostri profili molto specifiche. In questo caso è il Teatro Morlacchi di Perugia, quindi noi siamo in collaborazione con la Fondazione Morlacchi e forniamo il personale per le attività di maschera e il tecnico di palco. L'input. A Pesaro c'è un progetto molto particolare, nel senso che l'input che cos'è? Banalmente vi potrei dire che è un ufficio turistico, ma se dicessi questo i colleghi di Pesaro mi picchierebbero immediatamente. Allora, è uno spazio dove sicuramente si opera per una prima accoglienza turistica, con la possibilità però di presonotare le visite guidate nella città, nel territorio, nei musei limitrofi. Considerate che l'input si trova praticamente adiacente alla casa natale di Gioacchino Rossini. Ha all'interno, è un ufficio turistico, dicevo, ma che ha all'interno anche un bookshop, un punto vendita di tutte le eccellenze enogastronomiche del territorio, appunto la possibilità di prenotare immediatamente visite guidate sulla città e ai musei. La possibilità di acquistare i biglietti per spettacoli, teatrali, concerti, tutto quello che offre il territorio. In questo caso è stata fatta appunto una collaborazione tra più società, è stata creata proprio un ente, è stato creato una struttura a sé che ha vita propria e che è composta da tutte le società. Ed è un esperimento ben riuscito, veramente ben riuscito, dove non è appunto un semplice ufficio turistico ma è un punto di partenza di visita per tutto il territorio, con la possibilità però già di acquistare lì il loco, tutto ciò che si vuole acquistare dalla visita al prodotto. Le aree archeologiche, vi cito sicuramente Carzule che è l'area archeologica e centro di documentazione posto lungo la via Flaminia, anche in questo caso completamente ristrutturato e rivalutato, rivalorizzato proprio da un punto di vista anche di accesso, con una collaborazione molto attiva con la sovrintendenza, nel caso di Carzule gestiamo tutti i servizi, dall'accoglienza, alle visite guidate, alle attività didattiche, quindi come nel caso dei musei che vi ho citato poco fa, la gestione di tutti i servizi. Un'ultima gestione, ma solo per tipologia, anche questa una delle ultime scommesse, una delle ultime gestioni acquisite un anno fa, è una cantina, cioè il Carapace si trova vicino Bevagna, Bevagna è un piccolo comune che si trova tra Foligno e Spoleto, un comune di 5.000 abitanti, quindi molto piccola. È una cantina che produce vino, ma è una cantina realizzata dallo scultore Arnaldo Pomodoro, quindi in chiave contemporanea, ed è la prima opera al mondo, come dice lo stesso Pomodoro, dove si vive e si lavora. È una cantina che produce vino, Rosso di Montefalco e Sagrantino di Montefalco, ormai il Sagrantino tra i vini più rinomati e buoni. ha una proprietà molto interessante perché è di proprietà della famiglia Lunelli che da tre generazioni è alla guida delle cantine Ferrari, quelli delle Ferrari. Noi siamo entrati in contatto con i Lunelli, appunto, che hanno avuto nel 2005 l'idea di costruire, anzi di acquistare i terreni, cominciare a produrre il vino e incaricare lo scultore Pomodoro della costruzione di questa cantina. Sistema Museo che c'entra con il vino. Sistema Museo fornisce il personale per le visite guidate alla cantina, proprio perché è una cantina scultura. Quindi loro, in maniera lungimirante, hanno pensato di affidare a dei professionisti, insomma, del settore, e la visita guidata come a un luogo d'arte. Che è? Ho un video, ve la voglio far vedere. Questo è un progetto molto interessante. Innanzitutto gli interlocutori. In questo caso è una gestione che abbiamo con un privato e non con un ente pubblico. Quindi con un contratto proprio che abbiamo fatto tra privati, tra Sistema Museo e la stessa famiglia Lunelli, abbiamo fatto un accordo per cui noi gestiamo per la cantina tutte le attività di promozione e di comunicazione. Quindi abbiamo dedicato sempre in maniera costante uno spazio sul sito di Sistema Museo, un invio di newsletter o attraverso la nostra mailing list di proposte di visite, stampato del materiale cartaceo e distribuito su tutto il territorio, concordato con il loro ufficio stampa e il loro settore grafico, anche lo studio dell'immagine da promuovere. Forniamo il personale per le visite guidate. Quindi ci sono costantemente due persone di Sistema Museo che conducono il visitatore alla visita guidata, ovviamente da un punto di vista artistico. La famiglia Lunelli con il proprio personale si occupa invece della parte ovviamente di produzione enologica, della vendita del vino e della degustazione. Quindi si inizia con la visita guidata artistica e si conclude con la degustazione da parte degli esperti. Dicevo, molto interessante innanzitutto perché lavoriamo con un privato e per noi è in maniera marginale questo tipo di contatto. La seconda cosa è che abbiamo di fronte un interlocutore veramente lungimirante. In questo caso voi potete immaginare, l'Umbria è terra di vini, insomma potete immaginare, all'inizio è stato visto un po' come lo straniero che scendeva con l'astronave, già che sembra un po' un'astronave, potete immaginare gli altri produttori di vini, insomma si è gridati allo scandalo inizialmente quando questa cupola man mano completamente ricoperta di rame con questo dardo rosso proprio conficcato nel terreno è arrivato in Umbria, sono arrivati i Ferrari e ci rubano il marchio. Loro in maniera paziente, intelligente, hanno cominciato a tessere una rete di relazioni con tutti i produttori locali, quindi mettendo in campo, mettendo a disposizione la loro competenza, cercando delle collaborazioni, cercando delle collaborazioni appunto anche con altri soggetti, come nel nostro caso, devo dire entrando in punta di piedi nonostante da un punto di vista architettonico invece la presenza sia massiccia. Quindi devo dire che è un'operazione ben riuscita, è ai suoi esordi, è stata inaugurata a giugno del 2012, non è neanche un anno, però devo dire che ecco c'è già un riscontro molto positivo se non altro della rete di relazioni, questo vi voglio dire. Poi la cantina in sé per sé, ora vi faccio vedere il video, vi lascio anche un po' di materiale, merita una visita. L'idea, ve lo dico prima del video perché magari così avete degli spunti in più, l'idea di Pomodoro è quella di creare un carapace, cioè appunto con il suo guscio di tartaruga un elemento legato alla longevità, come saldo e longevo è il sagrantino di Montefalco che viene prodotto all'interno di questa cantina. Quindi da un punto di vista artistico e architettonico c'è un nesso e c'è stato da parte dell'artista uno studio, un'analisi del territorio, completamente ricoperto in rame, con questo appunto dardo rosso che indica come l'uomo ponga, insomma, un po' i suoi strumenti, la sua vanga sul terreno e se ne approprii. domina una collina, quindi è come se fosse una prosecuzione della stessa collina. Ha un impatto paesaggistico che vi devo dire, francamente io sono un po' titubante, insomma, nel senso che penso che il paesaggio vada innanzitutto rispettato per le sue linee, però devo dire che ha un impatto paesaggistico molto lineare, molto meno rispetto a quello che le immagini rendono. La cantina non è solo luogo di produzione, di degustazione, di visite guidate, ma la cantina offre i propri spazi, e su questo anche noi ci stiamo lavorando, anche per l'esposizione, gli allestimenti di mostre temporanee. È posta su due livelli, al piano interrato di otto metri c'è tutta la parte di produzione, al piano terra, diciamo, c'è tutta la parte di accoglienza e con una scala circolare che conduce verso la parte interrata si scende nella barricaia che è tutta interrata ed è tutta circolare, quindi è molto particolare. Ve l'ho voluta raccontare perché per noi, per esempio, è un esperimento completamente nuovo questo tipo di gestione, ma ora ve la faccio vedere. Sono tutti i suoi studi su come progettarla. Questo è l'interno, il modellino. Questa è in fase di costruzione, ovviamente, ha uno scheletro, una struttura tutta in legno. Questo è il pomodoro. Questa è la barricaia che vi dicevo, da cui si accede da una scala a chiocciola. Questa è la barricaia che vi dicevo, da cui si accedete da una scala. Un posto che merita di essere visto, condividendo o meno, per carità insomma. Sono uscita, ok. Allora, io lascio l'ultima parte delle gestioni, che mi sembra interessante, di cui vi vorrei parlare, che è quella di una gestione di una rete di musei, una rete nella rete, che è l'associazione Terre Musei dell'Umbria. Allora, che cos'è? Vi ho portato la citazione dell'assessore alla cultura del comune capofila, che appunto dice che il museo per essere vivo deve affondare le proprie radici nel territorio dove è collocato. Scontato è banale, ma poi deve, come dire, essere motivato da delle azioni. Allora, che cosa è successo in Umbria? Oltre alla rete museale di cui vi abbiamo già parlato esistente, inizialmente 15 comuni dell'Umbria, ora ad oggi sono 9, qualcuno poi ha scelto di prendere altre strade, si sono associati, ovvero si sono uniti in una convenzione con un regolamento interno e hanno iniziato a lavorare insieme per la promozione congiunta del proprio territorio e dei propri musei locali, integrati con tutte le realtà del territorio. Che cosa hanno fatto? Hanno reso possibile, come vi dicevo prima, l'Umbria è un territorio piccolo, visitare Montefalco, adesso vi ho fatto vedere Montefalco, visitare Perugia e non visitare Assisi è praticamente, come dire, assurdo, impossibile. Perugia, Assisi sono a un quarto d'ora di macchina, 20 minuti, non di più. Quindi, insomma, anche la geografia della nostra regione ci permette di andare facilmente da un luogo all'altro. E se il visitatore può accedere ad un museo e sapere che a un quarto d'ora di distanza ha, vi faccio l'esempio più banale, la gratuità all'altro museo vicino o a una serie di strumenti per cui può visitare l'uno e l'altro nell'arco di una mezza giornata, sicuramente vi accede. Quindi, questi 15 comuni inizialmente, ora questi 9 comuni, si sono associati tra di loro e hanno deciso una serie di azioni comuni, tra cui la gestione dei musei locali. Attualmente sono 9 e sono i comuni di Amelia, Bevagna, Cascia, Deruta, Montefalco, Montone, Spello, Trevi e Umbertide. Forse qualcuno di questi comuni non li avete mai sentiti nominare, perché sono comuni piccoli. Parliamo dai 3 ai 6 mila abitanti ciascuno, considerate. Proprio perché piccoli e proprio per non rimanere isolati, con delle collezioni magari non di grande pregio, ma legate alla scuola pittorica regionale o locale, proprio per non rimanere isolati, hanno deciso di unire le proprie forze e di fare una serie di azioni congiunte. Innanzitutto, rispetto ai musei, per esempio, un bando di gara unico per la gestione integrata e congiunta di tutti e 9 musei locali. Quindi decidere prima tra di loro le esigenze, le professionalità richieste, i requisiti, gli obiettivi, i tempi, i modi, le modalità per la gestione. E già fare questo, io ve lo racconto in 3 secondi, ma vi assicuro che mettere insieme 9 comuni, 9 orientamenti politici magari diversi, 9 assessori, 9 funzionari, insomma 9 realtà così differenti, è stato un percorso di anni, anni e anni. La regione l'ha molto, molto sostenuti, anche da un punto di vista pratico, su come fare, come associarsi, che tipo di normative potevano avere a supporto. E poiché la regione valorizza e finanzia, sostiene quelle che sono le realtà che si mettono in rete, ovviamente sono stati molto aiutati. Quindi è un percorso difficile, non vi crediate, perché comunque per quanto simili ogni realtà ha esigenze specifiche, quindi per quanto anche noi partecipando a questa gara di appalto abbiamo ovviamente proposto delle azioni comune a tutti, tanto poi per ogni realtà abbiamo dovuto specificare delle differenze. Quali sono le azioni congiunte che hanno messo in campo questi nuovi comuni? Il principio è quello, ripeto, di fare rete, con l'obiettivo di unire le forze e le competenze. Allora, sostanzialmente si sono concentrati, e questo è un lavoro di anni, ripeto, su una progettazione unica. Quindi ognuno ha dovuto cedere un pezzetto delle proprie esigenze, ognuno ha dovuto accogliere un pezzetto delle esigenze altrui. E qui, ripeto, insomma, alcune teste illuminate o comunque che hanno un po' visto lungo hanno saputo lavorare per la creazione di questa associazione. L'offerta culturale e turistica messa in rete. hanno creato un sito, hanno, come dire, progettato una serie di interventi comuni. Una promozione, una comunicazione coordinata, un unico Deplian per i nove musei, un unico prodotto, lo do in mano al visitatore e scopre, se non lo sa già, che può andare anche a, come vi dicevo prima, a 15 chilometri nell'altro museo, dove magari ha la gratuità, dove magari c'è un'iniziativa collegata, oppure dove c'è un'opera dello stesso artista che è appena visto nel museo dove è appena entrato. Una programmazione del calendario degli eventi è una delle cose più banali e scontate. Scoprire che quel festival, quel seminario, quell'evento viene organizzato in concomitanza con quella del comune accanto e quindi ovviamente si perde l'opportunità di poter... quindi anche programmare le azioni congiunte dalle sagre di paese, perché insomma non stiamo parlando solo di grandi eventi, agli eventi più grandi e più interessanti. Una gestione unica di musei e circuiti culturali, che non è un percorso da poco, le azioni promozionali come le card, gli sconti e le riduzioni sui reciproci territori, non solo per i musei ma anche per i produttori locali, mostrando il biglietto del museo di questa associazione Terremusei, andando al produttore ho una riduzione, uno sconto, e quindi il territorio trae beneficio da questa circuitazione. Una ricerca congiunta dei finanziamenti, quindi affidarsi a dei consulenti oppure al gestore dei propri musei per una ricerca di finanziamenti di cui poi tutti e nove i comuni possano trarne beneficio. Anche qui non tutto è rosa e fiori, perché poi insomma questa è un'associazione che è da molti anni che esiste, noi sono dieci anni che gestiamo i musei di questa associazione Terremusei, le stagioni politiche, e qui ovviamente c'è di mezzo anche gli orientamenti politici e gli orientamenti programmatici di ciascuno di questi comuni, cambiano, quindi a volte cambiando gli interlocutori cambia la natura stessa che anima questa associazione, negli ultimi anni con qualche difficoltà in più, anche proprio rispetto al reperimento dei finanziamenti, qualche difficoltà è stata riscontrata anche in questa rete, alcuni, come vi dicevo all'inizio erano 15, ora sono 9, alcuni comuni hanno scelto di separarsi dall'associazione, andare in una gestione diciamo solitaria tra virgolette, questi comuni stanno rientrando nell'associazione, proprio perché si sono resi conto che escono da un circuito, non c'è niente da fare, tra l'altro creando delle diseconomie, quindi laddove posso soffrire di un prodotto promozionale odio, lo stesso gestore che riesce ad abbattere dei costi, ovviamente è molto più agevole. Noi abbiamo, a parte per la gestione ordinaria dei musei, fatto alcuni progetti speciali per questa associazione, vi parlo di questo perché veramente va fuori un po' anche dai canoni che ci riguardano, ma che è molto legato al nostro territorio. Da alcuni anni, dal 2010, il Sistema Museo collabora con un'associazione locale che è l'associazione Young Jets, perché l'Umbria, Perugia, se qualcuno è appassionato di musica saprà che è Umbria Jets, oltre che al Festival dei Due Mondi, quindi diciamo che anche qui è un binomio culturale praticamente inscindibile. Questa è un'associazione che è patrocinata da Umbria Jets, considerate che Umbria Jets praticamente non dà patrocini a nessuno e quasi a nessun festival, se non al proprio. Una delle pochissime associazioni che Umbria Jets sostiene è questa associazione locale. Sistema Museo è entrata in collaborazione con questa associazione che sostanzialmente propone giovani talenti del jazz e abbiamo creato, sperimentato, inizialmente poi creato un evento nell'evento che è il progetto Young Jets Museum, anche qui. Che cosa avete fatto di così particolare? Niente, però vi assicuro che è stato clamoroso il successo che ha portato in tre anni di edizione l'organizzazione di questo evento, una ricerca di finanziamenti e una promozione da parte della regione incredibile, che è incredibile, abbiamo trovato un terreno veramente fertile. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato la musica jazz nei musei, oppure meglio, abbiamo aperto i nostri musei locali, tra l'altro legati a collezioni anche molto tradizionali, quindi a percorsi di visita poco freschi, poco sperimentali, li abbiamo aperti ad una delle sperimentazioni più innovative che è il jazz, oltretutto il jazz giovanile e sperimentale. Quindi abbiamo osato anche molto, qualche assessore all'inizio insomma si drizzava sulle sedie e diceva oddio, non so se questo tipo di musica si coniuga con il nostro patrimonio. Con degli obiettivi ben precisi. Considerate che nel 2010, nel 2011, l'organizzazione di questo progetto l'abbiamo fatto all'inizialmente solo con tre musei pilota, poi l'abbiamo allargato. Nel 2012 l'abbiamo fatto per l'Associazione Terre Musei dell'Umbria, quindi abbiamo ricercato noi finanziamenti, li abbiamo proposti ai nove comuni, li abbiamo ottenuti ovviamente, e abbiamo organizzato tutto il programma per nove musei, che sono appunto quelli che vi dicevo, da Amelia a Umbertide. Prima di raccontarvi il programma come è avvenuto e il pubblico di riferimento e quello che è successo veramente disconvolgente in questi musei con queste tre edizioni per questa iniziativa, vi faccio vedere un piccolo video. Ah, un'altra cosa prima del video. Anzi no, ve la dico dopo, scusate. Questo è un video promo che abbiamo mandato prima dell'evento come aspettativa. Grazie. 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 Allora, anche la tipologia del video, insomma, dinamico, colorato, fresco, insomma, ci siamo avvalsi della collaborazione di uno studio grafico di giovanissimi che lavora sul territorio, quindi è stata fatta una scelta anche molto, molto diversa rispetto al solito. E anche qui abbiamo veramente messo in rete tutti i nostri contatti. Allora, considerate che questo progetto legato ai nove comuni dell'Associazione Terre e Musei è stato interamente finanziato con la legge 24 del 2003, quella di cui vi parlavo all'inizio, ovvero la legge regionale che eroga contributi per i progetti di valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico. Ha ricevuto un finanziamento, vi dico anche le cifre senza nessun problema, di 92.000 euro per nove comuni per un programma che nell'ultima edizione si è svolto da dicembre a gennaio, dicembre 2012, fine gennaio 2013, con obiettivi ben precisi che sono stati quelli della promozione e valorizzazione degli ambiti museali, perché i concerti per la maggior parte si sono svolti all'interno dei musei, individuando ovviamente delle chiavi di lettura completamente diverse, anche di ingresso e di conoscenza di quella singola collezione, con l'idea, l'intento ovviamente di incrementare le presenze all'interno degli nostri stessi musei, dedicando però e rivolgendoci ad un target, ad un pubblico che era quello dei residenti. Anche collocarlo in un periodo come quello, i musei non sono solo per i turisti, anzi, come sapete bene, dalle statistiche nazionali, sette residenti su dieci non hanno mai messo piede dentro al proprio museo civico. I primi interlocutori per noi devono essere i residenti, il primo passaparola, la prima persona che deve poter invitare un conoscente, un amico, un turista, a visitare il museo deve essere il residente. Ecco, questo progetto, questo programma ha avuto come obiettivo quello dell'incremento del target dei residenti, anche perché il periodo lo permetteva, perché lo abbiamo organizzato in un periodo di basso affluenza turistica, tra dicembre e gennaio in Umbria. Insomma, non c'è, c'erano le festività natalizie, però l'intento era questo. E quindi fidelizzare sempre di più il pubblico dei residenti. E vi assicuro che è stato incredibile vedere gli occhi dei miei concittadini spalancati innanzitutto di fronte alla visione di un museo che non avevano mai visto. Diceva, io abito qui vicino, non sono mai venuto. Prima cosa. Seconda cosa, vederli stupiti del fatto che potesse risuonare un sax dentro a un museo di fronte a una pala d'altare piuttosto che davanti agli affreschi di Benozzo Godoli. Cambia completamente la percezione. Cioè, introdurre un elemento così innovativo come la musica jazz che difficilmente risuona, di concerti, degustazioni, ne facciamo tante, ne abbiamo viste fante, però addirittura delineare, costruire un programma di questo tipo all'interno di questi musei locali è stato veramente innovativo. Abbiamo messo in rete tutte le nostre conoscenze. Un dieci giorni prima dell'inizio dell'evento abbiamo organizzato una conferenza stampa evento all'interno della cantina Carapace di Bevagna. Quindi anche lì in un luogo completamente nuovo. conferenza stampa a cui ovviamente sono stati invitati i giornalisti, a cui però è seguito un evento, ovvero un concerto. Un concerto tenuto dal direttore artistico dell'associazione Young Jets ma che è uno dei più grandi pianisti ormai a livello internazionale che è Giovanni Guidi che è il pianista di Enrico Rava. È un mio concittadino, è di Foligno. Quindi in quella occasione a seguito della conferenza stampa ha tenuto lui stesso una performance nella barricaia della cantina. Quindi anche il creare già una conferenza stampa con l'evento si dà maggiore senso, insomma si dà un'aspettativa maggiore e si crea già un evento. Il programma è stato strutturato ho un po' di Deplian poi ve li potete anche vedere con dei concerti pomeridiani all'interno di ogni museo tutti ad ingresso gratuito. Ogni concerto è stato preceduto da una visita guidata dello stesso museo e anche fisicamente la visita guidata si concludeva nel luogo dove poi avveniva il concerto. In alcuni casi laddove avevamo dei musicisti e soprattutto degli strumenti che lo permettessero la visita guidata è stata condotta magari sulle note di un sax o di una tromba a seconda del concerto poi che si andava che veniva eseguito. dopo il concerto è stato organizzato una peri set cioè un aperitivo accompagnato da un dj di musica jazz come vedete insomma delle cose anche molto innovative il pubblico il target di riferimento di come dire di maggior affluenza è stato soprattutto quello giovanile forse voi lo sapete o se non lo sapete ve lo ripeto anch'io se c'è un target di pubblico che frequenta poco i nostri musei sono come vi dicevo i residenti ma soprattutto quella fascia di età che va dai 18 ai 30 anni 35 non so se potete cioè confrontarvi con i vostri coetanei è difficilissimo che un ragazzo a 20 anni vada a visitare il museo civico di Foggia piuttosto che i nostri musei abbiamo portato questa fetta di pubblico questa fetta di persone perché sostanzialmente sono tutte persone nei musei con un linguaggio a loro più consono quello della musica sperimentale appunto addirittura con DJ set con un aperitivo aperitivo rigorosamente organizzato con i produttori locali quindi con le degustazioni insomma che riguardavano il territorio e sempre con una visita guidata che appunto desse conto del contesto quindi pochi ingredienti semplici messi insieme con un po' di maestria un po' di creatività un po' di coraggio ve lo assicuro un po' di coraggio pure e noi abbiamo avuto il tutto esaurito a tutti tutti i concerti a volte arrivando al limite anche della capacità di contenimento degli stessi spazi che insomma in alcuni casi non sono molto molto grandi essendo dei musei locali però veramente ve lo racconto perché io ho partecipato a tutta la progettazione di questo programma dal 2010 anche all'ultima edizione quindi l'ho vissuta in prima persona perciò ve la trasmetto con tutta la mia enfasi insomma il mio la scommessa è stata veramente notevole ma la cosa più emozionante è stata veramente sentir risuonare questa musica nei musei e vedere gli occhi e le espressioni delle persone presenti meravigliate è come se fosse stato trovato un linguaggio una comunicazione nuova anche per raccontare e presentare loro come vi dicevo prima una palla d'altare piuttosto che un affresco o una scultura linea purtroppo quest'anno il programma il progetto non è stato presentato nuovamente per in realtà una mancanza di come dire non si sono messi d'accordo i comuni quindi per quest'anno non si farà quindi come vi dicevo prima tutti i lati della medaglia ve li voglio raccontare le cose belle ma anche quelle negative quindi speriamo di non perdere questa questa esperienza questi sono alcuni momenti una delle attività e delle azioni svolte in collaborazione con l'associazione dentro questo progetto poi ve ne parlerò nello specifico più avanti è stato anche dedicare un laboratorio sulla musica jazz ai bambini delle scuole dentro i musei però quindi sempre nel contesto museale sempre con il linguaggio della musica jazz insomma innovativa sperimentale però dedicato ai bambini è stato un esperimento molto interessante di cui vi parlo dopo nello specifico perché anche per noi è stato formativo per i nostri operatori che si sono messi in contatto con i musicisti e con loro esperti qui vedete è un sassofonista lui è un è un maestro quindi aveva competenze per poter trasmettere questo tipo di per poter condurre questo tipo di laboratori però ve ne parlo a parte rispetto a questo io vi volevo far vedere e poi concludo la parte sulle gestioni e quindi poi magari apriamo insomma anche qui un confronto o passiamo a quella dei settori un video con una intervista anche molto rara del presidente Sistema Museo proprio su Young Jets un po' Grazie a tutti. Qui ci troviamo a Spello, una piccola pinacoteca in uno degli appuntamenti durante la visita guidata. realizza delle opere qui nei pannelli che troviamo lateralmente c'è San Bernardino da Siena con il trigramma sempre quello è identico a questo santo qui però cosa succede? riproduce sicuramente anche con un cartone utilizzando la stessa figura siamo a Spello in conclusione della straordinaria rassegna Young Jazz Museum arrivata alla terza edizione abbiamo attraversato tutta la regione comuni come Deruta Umbertide, Montone Trevi, Montefalco Bevagna, Amelia e Cascia iniziativa avviata nel mese di dicembre che termina proprio oggi 20 gennaio qui a Spello con un entusiasmante concerto di Constad un'iniziativa che sicuramente grazie all'assessorato regionale alla cultura è stata possibile in collaborazione con la società cooperativa Sistema Museo e crediamo sia importante anche mantenerla e riproporla nei prossimi anni Siamo all'ultima data di questa terza edizione di Young Jazz Museum è un'iniziativa che ha riscosso un successo notevole abbiamo immaginato per il terzo anno consecutivo questa contaminazione tra beni culturali e musica e devo dire che la rassegna ha avuto un successo notevole spesso abbiamo avuto un pubblico anche superiore rispetto alla capienza delle sale quindi qualche problema organizzativo ma forse anche il bello dell'iniziativa credo che questo tipo di iniziativa il jazz, la cultura, i nostri musei facciano parte di un patrimonio ormai molto forte è radicato nella nostra regione quindi continueremo a lavorare in questo senso se ci sarà il sostegno degli enti e naturalmente del pubblico come c'è stato fino ad oggi questo ecco per darvi conto velocemente insomma anche dei progetti più complessi ovviamente ecco io vi ho proposto alcuni dei progetti di rete e in rete più particolari dove ovviamente abbiamo fatto una scommessa, un investimento notevole questo perché anche per studiare e per inventarsi dei nuovi canali anche di comunicazione e di linguaggio con i vari pubblici ripeto in Umbria parlare di jazz è quasi automatico proprio per la realtà di Umbria Jazz così viva e forte e che denota anche una tipicità un'eccellenza del nostro territorio il fare rete vuol dire anche prendere in considerazione no anche soprattutto prendere in considerazione quelle che sono le realtà emergenti quelle più che contraddistinguono di più un certo territorio e quindi appunto farle dialogare tra di loro a volte veramente facendo un po' la scoperta dell'acqua calda e dire ma perché non faccio uno più uno invece di andarmi a inventare di fare uno elevato all'ennesima potenza di andare a trovare quindi partendo dalle cose che abbiamo sotto gli occhi dalle potenzialità che già ci sono fare questo lavoro di regia è questa la cosa più complicata fare il lavoro di regia e ovviamente trovare il tre di unione il minimo comune denominatore tra tutti i soggetti rintracciare i finanziamenti laddove c'è la possibilità di rintracciarli e provare insomma ad andare avanti su questa scommessa allora ci siamo nei tempi posso andare avanti allora infatti io qua vi lascio dopo tanto te lo dico ma manco alcun po' di cui parliamo io ho portato un po' di materiale non tantissimo perché sicuramente l'involuzione ma tutti stavano però anche in visione e vi dico brevemente che cosa lascio qui in questa prima parte allora questo è l'opuscolo il deprian della rete di musei di cui vi parlavo dei nove musei l'associazione terre musei molto semplice che appunto dà le informazioni principali su tutti i nove musei in rete questa è la cartolina la comunicazione per la cantina carapace di cui abbiamo visto prima il video e questo è il programma e il deprian del progetto Iangetze Museum che abbiamo visto adesso ve li comincio a lasciare qui anche poi per visionarli e poi passerei a un argomento successivo allora come vi dicevo le gestioni museali sono il cuore delle nostre attività poi come anche siamo strutturati l'organizzazione dei settori che sono i settori trasversali che sono anche le aree commerciali chiamiamole così con un termine che fa molto più impresa che non cooperativa però sono quelle zone quegli ambiti quegli argomenti quei contenuti dove possiamo investire ci possiamo lanciare con progetti nuovi possiamo trarne ricavo anche è quella metà diciamo anche degli introiti da quel grafico che vi facevo vedere da cui sommando tutte le varie attività possiamo arrivare ad avere anche ricavi allora noi abbiamo un settore librerie museali che cosa fa un po' tutto quello che riguarda la gestione dei bookshop la gestione il coordinamento di tutti i punti vendita sia all'interno dei musei che delle mostre temporanee c'è uno staff operativo che si è specializzato anche nell'individuazione delle linee dedicate ovviamente i nostri bookshop sono come tutti i bookshop museali però insomma sono specializzati si sono specializzati nel campo della storia dell'arte del turismo l'editoria dedicata ai bambini abbiamo creato creiamo grande spazio a questo a volte anche con un allestimento di bookshop solo per bambini un angolo morbido sedute basse vicino appunto all'editoria per bambini la cartotecnica la produzione artigianale quindi con un assortimento molto ampio dei settori considerate che per scelta abbiamo deciso anche in bookshop di musei molto vicini di dare una identità diversa di rendere diciamo unici e speciali ogni bookshop quindi di non vendere sostanzialmente non vendere lo stesso prodotto anche in musei limitrofi e molto vicini ma laddove innanzitutto rispettando la collezione di quel museo o comunque la tipologia di quella mostra quindi ovviamente facendo una ricerca sulle linee editoriali legate a quella collezione a quel museo e a quel territorio ma anche con oggetti e produzioni legate all'artigianato qui c'è una foto che credo si veda poco molto male però contattando gli artigiani locali ci proponiamo come vetrina anche per le loro produzioni a volte veramente produzioni di eccellenza in questo caso ci sono delle ceramiche dei gioielli realizzati da alcuni artigiani umbri molto belli molto costosi anche ma che sono una produzione rara tipica del territorio questa è della zona di Deruta Gualdo Tadino quelle zone lì e devo dire che per il pubblico dei musei delle mostre è uno dei prodotti che viene più apprezzato ci occupiamo quindi di tutti gli aspetti l'allestimento delle librerie acquistando le librerie allestendole con appunto lo staff operativo che ormai ha acquisito esperienze anche in designer e in architetture di interni con la ricerca dei fornitori locali stringendo accordi e contratti con i fornitori sostanzialmente noi abbiamo con i fornitori degli accordi o in conto vendita o in acquisto con una differenza il conto vendita ovviamente il fornitore ci dà 100 pezzi di quel prodotto ogni 3 mesi facciamo una rendicontazione ne ho venduti 50 te ne pago 50 quindi il conto vendita è quello che ci aiuta di più perché non facciamo l'investimento iniziale l'acquisto ovviamente acquistiamo i 100 prodotti e al nostro rischio e pericolo li proponiamo sui vari musei quindi direttamente contattando noi fornitori tutta una gestione di ordini resi rifornimento quindi di tutte le librerie e da ormai alcuni anni abbiamo anche una gestione attraverso un software tutte le librerie museali hanno installato un software gestionale che è collegato con la sede centrale a Perugia quindi dalla sede centrale in tempo reale riesco a vedere le vendite di ogni area di ogni libreria riesco a vedere quali ordini deve fare quale prodotto è stato terminato quindi ci come dire abbatte dei tempi anche di lavoro rendicontazione monitoraggio inventario perché insomma è la gestione di veri e propri negozi librerie quindi il software su questo è molto molto utile facciamo anche dei progetti di allestimento come vi dicevo quindi studiando a seconda della caratteristica del museo del luogo della collezione della città delle linee e quindi chiedendo insomma agli architetti e ai fornitori delle librerie di fare quel tipo di allestimento questo ve lo dico perché molto spesso anzi nella maggior parte dei casi anche gli stessi comuni gli enti appaltanti non hanno la capacità o non possono o non vogliono investire sull'allestimento quindi comunque ci viene richiesto di gestire un bookshop ma che un bookshop non esiste non c'è quindi su questo abbiamo un po' affinato le nostre capacità per riuscire a coprire tutta la filiera dall'allestimento alla vendita finale ultimamente ci occupiamo anche di produrre come sistema museo delle linee di merchandising personalizzato qui c'è solo un esempio legato al museo di Gioacchino Rossini quindi con dei prodotti dedicati a seconda anche in questo caso dei luoghi dei siti trovare il prodotto a volte ovviamente sono operazioni anche qui di marketing sono operazioni a rischio di impresa alcune operazioni vanno bene alcune vanno male diciamo che andiamo sempre cauti magari nell'investimento non mille tazze ma proviamone cento nel caso dell'esempio che è rappresentato qui anche se sulla produzione purtroppo ci sono dei vantaggi nel fare una grande produzione produrre cento tazze mi costa molto di più che produrne mille magari come sapete bene quindi a volte il rischio sta anche in questo il nostro settore librerie museali è allora lavora in tutti i musei in tutte le nostre gestioni ma lavora anche al di fuori delle nostre gestioni cioè a volte ci occupiamo solo di librerie museali in quel dato spazio non gestiamo le visite guidate le informazioni la biglietteria l'accoglienza la didattica niente di tutto ciò ma magari gestiamo solo il bookshop proprio come se avessimo una libreria in alcuni casi abbiamo partecipato proprio a dei degli appalti proprio soltanto per le librerie in alcuni casi anche qui vi parlo di un progetto speciale molto interessante che gestiamo che gestiamo a Genova è Via del Campo 29 Rosso qui è stata creata un'associazione temporanea di imprese con due società di Genova Solidarietà e Lavoro e ETT e appunto con Sistema Museo che hanno risposto ad un bando di gara del comune di Genova per l'affidamento dell'emporio sito come diceva il bando di gara in Via del Campo 29 Rosso perché Via del Campo 29 Rosso innanzitutto cominciamo dal nome Via del Campo credo che a tutti sarà noto è la famosa strada cantata da Fabrizio De Andrè nella omonima canzone in Via del Campo che cosa c'era? al numero 29R in realtà c'era un negozio un negozio di Gianni Tassio che era un cultore di De Andrè un negozio di dischi era ovviamente che dopo la morte di De Andrè nel 99 è diventato anche per iniziativa del titolare un po' un luogo di pellegrinaggio Gianni Tassio aveva diciamo caratterizzato questo negozio vendendo soprattutto dischi di De Andrè ma perché lui ne era un amante sostanzialmente per volontà sua personale non per chissà che tipo di strategia e dopo la morte ripeto era diventato un po' perché è sito in Via del Campo un po' perché è specializzato solo sui dischi ma non solo i dischi di De Andrè si era già diciamo caratterizzato per questa sua specificità il comune quando il negozio chiuse il comune decise di acquistarlo e fece un bando di gara appunto in cui oltre alla gestione si pensasse anche alla ristrutturazione intera di tutto il negozio tra l'altro il negozio si trova non solo in Via del Campo ma in uno dei quartieri più popolari di Genova non so se ci siete mai stati se lo conoscete uno dei quartieri più popolari anche uno dei quartieri dove diciamo il degrado è un po' al limite quindi è stato fatto per volontà del comune anche un'operazione di rivalutazione dell'intero quartiere facendo in quel quartiere un punto di riferimento culturale Genova De Andrè potete immaginare insomma è un binomio indissolubile quindi rivalutando questo spazio fisico che è molto piccolo tra l'altro si è cercato di rivalutare un po' tutto lo spazio tutto il territorio del quartiere quindi perché Via del Campo 29 Rosso perché abbiamo deciso semplicemente di chiamare le cose con il loro nome quello dato Ponomastica era Via del Campo 29R piuttosto che chiamarlo Negozio di De Andrè che ovviamente è inflazionatissimo in quel quartiere e a Genova abbiamo cominciato già dal nome a dare un nome specifico alle loro cose che cos'è? è un emporio museo cioè innanzitutto da questo punto di riferimento in questo punto di riferimento vengono raccolte tutto il patrimonio musicale e culturale legato a De Andrè e alla scuola genovese all'interno c'è un percorso espositivo fatto di immagini apparecchi multimediali che raccontano la scuola musicale genovese quindi De Andrè e non solo Bindi Paoli Tenco Lauzi Fossati eccetera e al suo interno ha anche una vendita di testi legati a questa al cantautorato genovese dischi gadget eccetera è un po' una situazione mista è un negozio ma non è solo un negozio da questo punto di riferimento partano delle visite guidate sul territorio quindi è una situazione molto particolare considerate che proprio perché è particolare il comune di Genova lo ha dato in gestione a questa associazione temporanea di impresa per nove anni cioè con un investimento molto lungo proprio perché è una situazione delicata dove anno per anno vanno costruite una serie di fasi di sviluppo e di lavoro noi in questa associazione temporanea di impresa ci siamo occupati e ci occupiamo tuttora dell'allestimento dell'emporio cioè del negozio vero e proprio non della parte discografica ma solo della parte legata all'editoria al merchandising ai rapporti con i fornitori quindi la vendita direttamente però ve lo faccio vedere anche questo perché merita davvero questo è praticamente vi dico poi lo vedete sostanzialmente questo emporio va da un vicolo all'altro quindi ha un lungo corridoio al centro di questo corridoio si crea questa stanza più grande che gli archidetti hanno pensato essere un po' una piazza una chiocciola che si snoda e quindi da un vicolo all'altro poi si apre tutto il negozio considerate che a Genova è un luogo frequentatissimo l'inaugurazione è stata vista come una festa popolare veramente è durata tutta la notte è stato un evento per la città di Genova il comune l'ha caldeggiata le associazioni locali l'hanno sostenuta è stato veramente un evento nella creazione dell'evento e una partecipazione collettiva di tutti i residenti incredibile notevole come fece Fabrizio De Andrè per Crosa De Ma anche l'Emporio Museo via del campo 29 Rosso in omaggio al cantautore genovese ci sono le voci registrate al mercato del pesce perché quello che fu il negozio di Gianni Tasso inaugurato coinvolgendo a feste i vicoli intorno ora è parte integrante della città vecchia completamente rinnovato fra tecnologie e ricordi acquistato dal comune e gestito da privati l'Emporio fa sì che il visitatore entra direttamente in un vicolo che sbucca in quello dei Fregoso e questa è la piazza quindi il vicolo in esterno con le collezioni quindi un percorso ideale nella nostra città attraverso diciamo le memorie storiche della nostra scuola genovese della canzone d'autore Fabrizio Di Andrè e non solo Fabrizio ma tutti i nostri grandi artisti Luigi Tenco Bruno Lauzzi Gino Paoli Bindi Fossati Vittorio Descalzi e all'inaugurazione c'è anche la lina che fa a veravide volare in una delle sue celebri canzoni e poi le foto i quaderni di Tassio che raccolgono i pensieri di quanti sono passati di qua luogo di suggestioni e memorie che culminano con la mitica chitarra di Di Andrè acquistata all'assa per 168 milioni di lire anni fa simbolo del museo che inizia con questo emporio per far rivivere i poetici labirinti dei vicoli di Genova dai diamanti non nasce niente per le teme non escono più questo video credo che renda insomma bene l'idea rispetto a quello che vi stavo raccontando e mi sono persa tutto ok questa come dire è una sperimentazione ardita anche per noi nel senso che la nostra parte riguarda la gestione della parte della vendita della libreria degli oggetti come avete visto dalle immagini è effettivamente un emporio museo dove ci sono dei pezzi dalla mitica chitarra di Di Andrè a dei dischi autografi cioè insomma autografati dal cantautore quindi comunque il personale che è il personale dipendente della cooperativa di Genova fa anche delle visite guidate quindi la nostra collaborazione è molto fattiva insomma con le altre società però ripeto questo è un progetto molto ardito che sta funzionando abbastanza bene perché poi bisogna vedere anche la ricaduta cioè tutto questo investimento considerate che è stato inaugurato febbraio del 2012 mi sembra anche questo quindi un anno fa quindi ancora come dire abbiamo un bilancio molto limitato su come stanno andando le cose però sta andando abbastanza bene sempre su Genova e sempre rispetto alle attività che svolge il settore delle librerie museali da poco abbiamo ideato questo progetto anche qui niente di nuovo e niente di particolare 100% Liguria sostanzialmente abbiamo stretto una collaborazione con Liguria Style che è il centro dell'eccellenza degli artigiani della Liguria è proprio un punto di riferimento per tutti gli artigiani Liguri che promuove valorizza l'artigianato locale che cosa abbiamo fatto veramente una cosa molto semplice abbiamo riallestito alcuni spazi dei bookshop dei musei di strada nuova la strada patrimonio dell'UNESCO di cui vi parlavo dove si affacciano i tre palazzi storici dove noi gestiamo i bookshop li abbiamo riallestiti dedicando degli angoli alle eccellenze tipiche del territorio anche qui ci siamo un po' lanciati in altro nel senso che abbiamo detto non esiste itinerario culturale che non sia che non possa prevedere anche comunque una conoscenza di quelle che sono le tipicità dal pesto ai vini l'olio eccetera coinvolgendo quindi direttamente gli artigiani quindi facendo anche una scelta una selezione affidandoci a Liguria Style è stata fatta una scelta di contatti di fornitori di artigiani locali quindi l'artigiano direttamente vende il proprio prodotto in una vetrina d'eccellenza perché sono i bookshop museali quindi a volte non proprio come dire frequentati da tutti quindi creando degli angoli in cui ci fossero delle accanto all'editoria dedicata alla storia dell'arte anche delle tipicità locali facendo organizzando anche delle visite guidate sul territorio che comprendessero visite culturali alla città e anche visite alla bottega dell'artigiano stesso che in quel luogo vende propri prodotti anche qui ripeto un po' uno più uno che cosa c'è che cosa possiamo fare quali sono le potenzialità ok mettiamole insieme facciamo una comunicazione unica quindi è stata scelta questa comunicazione molto semplice il sigillo rosso di Ceralacca 100% Liguria quindi la garanzia che tutti i prodotti e tutti i soggetti coinvolti fossero veramente l'eccellenza del territorio qui riporto le parole dell'assessore alla cultura del comune di Genova che appunto mi sembrano interessanti perché aveva dichiarato questa iniziativa arricchisce l'offerta turistico-culturale della nostra città in un'area di grande pregio strada nuova con i suoi palazzi patrimonio dell'UNESCO poter coniugare visite di approfondimento ai beni culturali della città e l'offerta di prodotti tipici locali significa offrire l'opportunità di conoscere il territorio che ci ospita proprio di un'esperienza completa e oggi in cerca del turista quindi anche qui ripeto il mettere in rete e unire più forze ci ha portato a questo progetto considerate che recentemente se ne parlava con l'assessore alla cultura della regione Umbria che aveva visto questo esperimento fatto a Genova e ci chiedeva ma perché non facciamo 100% Umbria e questo tipo di sperimentazione con gli artigiani Umbri lo collochiamo nelle vostre vetrine insomma nei vari bookshop quindi insomma poi dopo se un format chiamiamolo così non mi piace utilizzare questi termini diciamo un po' stereotipati però se un progetto funziona poi si può ovviamente anche esportare e tradurre declinare insomma anche in altre regioni allora nei vari settori io adesso ce ne sono alcuni di cui vi parlo brevemente ma per darvi conto anche per riallacciarmi a quello che dicevo inizialmente noi abbiamo anche un settore comunicazione che si occupa di comunicazione grafica web e ha un suo ufficio stampa interno fino a il 2005 noi avevamo consulente cioè un ufficio grafico che curava la nostra comunicazione i nostri prodotti il nostro sito tutto quello che era necessario produrre sia come materiale cartaceo che come campagne promozionali abbiamo fatto una scelta di renderci autonomi in questo percorso e al nostro interno abbiamo dei nostri soci che hanno ovviamente delle professionalità legate al mondo della grafica del giornalismo e del web delle competenze per cui al nostro interno adesso abbiamo uno studio grafico un ufficio stampa piccolo però insomma che per le nostre iniziative è molto efficace e quindi curiamo quelli che sono tutti i progetti di comunicazione con il nostro grafico abbiamo delle tipografie di riferimento per la stampa dei materiali quindi l'abbattimento dei costi rispetto insomma ad altre soluzioni quindi andiamo a creare tutta quella che è la grafica aziendale tutti quelli che sono i prodotti per i vari partner laddove ce li chiedano ovviamente e facciamo in alcuni casi anche consulenza per gli enti magari il comune ha bisogno di un grafico per quell'evento quel progetto che non è di nostra gestione ma possiamo mettere a disposizione il settore comunicazione come appunto un vero e proprio ufficio grafico abbiamo un ufficio stampa interno vi dicevo anche questo è molto utile è un ufficio stampa piccolo però riusciamo a organizzare tutto il press kit per gli eventi quindi l'organizzazione delle conferenze stampa contattare la stampa locale nazionale ovviamente all'interno abbiamo due colleghe che sono giornaliste che poi hanno fatto un percorso dentro il sistema museo quindi insomma uniscono le più competenze che hanno che ci permette di essere molto efficaci insomma su questo e l'ufficio stampa inoltre si occupa anche di curare interamente insieme alle altre colleghe del settore comunicazione il nostro sito che recentemente è stato completamente aggiornato quindi se vi capita di visitarlo potete trovare molte sezioni con una newsletter settimanale che viene inviata ogni giovedì a tutti coloro che sono iscritti e vi invito a iscrivervi così avete sei iscritto se è vero adesso controllo no scherzo però insomma riusciamo a dare conto anche di tutte le iniziative non solo il nostro sito è comunque molto visitato e molto spesso facciamo da sponda lo dicevo prima con Flavia dell'Arti giusto di inviarci tutte le iniziative dei laboratori del basso perché così le pubblichiamo e le inviamo con le nostre newsletter o comunque i nostri contatti possono essere raggiunti abbiamo un call center che non è un call center ci tengo sempre a sottolineare questa cosa perché sembra solo che ci siano le segretarie che rispondono al telefono nasce come call center ovviamente nel senso che noi abbiamo avuto l'esigenza di creare un numero verde e un numero 199 perché sostanzialmente volevamo creare un unico canale per l'utente il turista che chiede informazioni invece che chiamare tutti i singoli magari vuole fare un giro e si chiama i due tre musei che vuole andare a visitare chiama un unico numero di telefono e chiede le informazioni non solo magari chiama semplicemente per avere l'informazione di quel singolo museo e l'operatore l'operatrice le colleghe dall'altro lato possono suggerire consigliare di andare a visitare anche quella mostra che è in corso lì vicino oppure un altro museo perché magari quello richiesto in quel periodo è chiuso per lavori di ristrutturazione che cosa abbiamo fatto anche qui la nostra rete museale non solo quella Umbra dico la nostra rete di tutte le nostre gestioni viene praticamente promossa e tutte le informazioni vengono canalizzate su un unico punto di riferimento perché due numeri numero verde l'ottocento novantasei eccetera ovviamente per l'utente è un numero gratuito lo paghiamo noi per gli utenti e noi lo utilizziamo per le attività didattiche le insegnanti sono incentivate hanno un canale anche gratuito che risponde sempre ad un orario ovviamente dopodiché c'è una segreteria telefonica a cui col messaggio automatico prendiamo il contatto e quindi vengono agevolate le scuole mentre il numero a pagamento è per tutti gli altri utenti perché è un call center che non è un call center perché al di là di tutte queste attività che riguardano l'informazione le prenotazioni tra l'altro sono colleghe di una pazienza io dico sempre incredibile perché io non avevo mai visto come era organizzato un call center le richieste sono le più disparate quindi veramente ci vuole una pazienza e una cortesia incredibile le colleghe del call center quando non rispondono al telefono fanno anche tutta un'attività di promozione per esempio fanno tutte le spedizioni del materiale cartaceo periodicamente ai nostri indirizzari considerate che noi abbiamo centomila utenti centomila contatti l'anno tra telefonate e mail abbiamo un indirizzario di diecimila utenti costruito anno per anno diviso per o provenienza geografica o per tipologia associazioni enti privati eccetera quindi a seconda dell'iniziativa che voglio promuovere non so le visite al carapace piuttosto il progetto Young Jets museum di cui vi ho parlato faccio una selezione anzi il call center mi fa una selezione nel nostro indirizzario mi dice guarda Cristina ti propongo di mandarlo a questo questo e questo perché rispondono a questa tipologia e secondo me possono essere gli interlocutori di questa iniziativa quindi ovviamente utilizzano tutti i contatti per la spedizione del materiale cartaceo curano le nostre campagne di affissione che cosa vuol dire anche qui è un lavoro molto pratico molto operativo cioè contattano tutti i vari comuni laddove abbiamo necessità di fare delle campagne di affissioni di manifesti oggi la tecnologia il web il digitale ci aiuta moltissimo però il cartaceo come dicevo stamattina in macchina resiste ancora e quindi per alcune attività ancora è molto efficace continuare a comunicare con la carta non solo ma divulgano anche le iniziative il materiale anche presso tutti gli uffici turistici locali sempre attraverso le spedizioni o attraverso l'invio di mail quindi diciamo che fa un lavoro di promozione molto più ampio appunto come vi dicevo del semplice rispondere al telefono e dare le informazioni e già quello è un gran lavoro cioè avere un canale unico dove riesco ad orientare il visitatore su molte cose è molto efficace le spedizioni appunto di cui vi parlavo le campagne di affissione e distribuzione gestisce le biglietterie elettroniche nel caso delle grandi mostre questo sì anche quindi c'è la vendita online dei servizi cioè delle visite guidate ma anche dello stesso accesso e ingresso alle biglietterie abbiamo un settore audio guide che qui brevemente e poi facciamo una pausa e riprendiamo dopo nel senso che anche qui prima ci siamo fatti sopportare da un consulente esterno che ci forniva il macchinario proprio l'audio guida stessa che ci noi davamo insomma come indicazione l'esigenza di fare un'audio guida per una mostra o per un museo e appunto la società di consulenza ci produceva tutto il pacchetto anche qui abbiamo cominciato come dire a rendere interno questo settore quindi noi riusciamo a fornire a chi ce lo chiede il macchinario attraverso la collaborazione con docenti universitari curatori di mostra a scrivere produrre i testi a registrarli in sala di registrazione utilizzando effetti attori quindi insomma anche suggestioni che vanno oltre i testi e a proporre il prodotto solitamente o lo lo produciamo laddove crediamo sia opportuno fare un investimento e quindi è un servizio a pagamento per l'utente oppure laddove tutto il pacchetto audio guide viene finanziato dal comune o da quell'ente è un servizio gratuito per l'utente però è molto efficace qui ovviamente bisogna essere l'investimento dove è? sull'apparecchiatura che ovviamente come sapete diventa obsoleta nel giro di poco tempo e quindi va sempre riaggiornata cambiata concludiamo qui così poi riprendiamo sulle mostre temporanee dove invece c'è un approfondimento e un argomento insomma un pochino più complesso da affrontare grazie 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 grazie